Il settore qualità dell'aria e rumore d'energia si occupa in città metropolitana di materie che si inseriscono nel goal numero 7, energia pulita e accessibile. Noi ci occupiamo di autorizzare e controllare gli impianti di produzione energia, sia tradizionali che in energie rinnovabili e autorizziamo e controlliamo le emissioni degli impianti industriali, autorizziamo e controlliamo le emissioni degli impianti di riscaldamento domestici. Non si tratta solo di un lavoro di controllo ma si tratta anche di un lavoro che vuol puntare a migliorare l'efficienza energetica di tutti questi impianti di cui abbiamo parlato e fornire indicazioni per consumare meno e inquinare meno. Nel 2017 la città metropolitana ha siglato un accordo di collaborazione con Enea grazie al quale ci siamo portati in casa, diciamo così, una serie di competenze e una serie di ricercatori che ci aiutano in questo lavoro di ricerca dell'efficienza energetica e promozione dell'efficienza energetica. Enea ci aiuta con l'apporto di tecnici ma anche portando in città metropolitana tutta una serie di relazioni, una rete di conoscenze che vengono dalla scala locale alla scala nazionale fino anche alla scala europea. Nell'ambito di questa collaborazione abbiamo sviluppato il progetto Decivat che concorre anche con il goal numero 17 partnership per gli obiettivi ovvero un progetto sperimentale che mettendo insieme dati che abbiamo noi che riguardano l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento con altri dati territoriali di città metropolitana e sentendo tutti i portatori di interessi, le aziende, gli operatori del settore, chi si occupa di edilizia, chi si occupa di impianti vuole dare delle indicazioni precise, concordate e personalizzate per migliorare, per innescare dei meccanismi di efficientamento energetico degli edifici. Il progetto sistema unico Decivat rientra tra le buone pratiche dell'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Rientra come una procedura innovativa e replicabile sul territorio che nasce dalla sfida di città metropolitana di trasformare una funzione di controllo del solo impianto termico a uno strumento strategico di indagine sull'efficienza energetica del sistema edificio-impianto. Il progetto prende origine da una sperimentazione del diodite energetica svolta da città metropolitana in collaborazione con Enea durante la campagna di spezione degli impianti termici sul territorio nel 2017. Il progetto ha come primo obiettivo quello di creare un sistema integrato di raccolta dati facendo dialogare i catasti energetici come un catasto unico impianti termici regionale un catasto energetico degli edifici i catasti comunali insieme ai dati territoriali nel catasto topografico sviluppato dall'area e ambiente di città metropolitana e disponibile nel portale decimetro. Il sistema integrato di dati permette di ottenere un profilo energetico del singolo edificio e simulare i possibili interventi di riqualificazione degli edifici. Ad oggi abbiamo disponibile un caso studio sul territorio del comune di Rozzano che pur essendo un comune superiore a 40.000 abitanti ha stipulato un'apposita convenzione con città metropolitana per svolgere l'attività istituzionale di controllo degli impianti termici. L'obiettivo finale del progetto è quello di fornire all'utente pubblico privato un servizio di accompagnamento passo a passo proprio di realizzazione della riqualificazione degli edifici e ad oggi abbiamo tramite il sito web disponibili delle linee guide condivise con il tavolo tecnico proprio riferite alle procedure per realizzare queste opere con i criteri minimi per garantire un percorso di qualità. La seconda sfida possiamo dire di città metropolitana insieme a INEA è quella di poter costituire un servizio one-stop-shop così come lo definiscono le direttive europee in materia di efficienza energetica. Sono Francesca Ugoni ricercatrice NEA per il Centro Territoriale della Lombardia il servizio unico dei CIVAT di cui stiamo parlando ha visto coinvolti ricercatori di Enea che provengono da diversi centri territoriali centro territoriale della Lombardia appunto il centro territoriale di Ispra in provincia di Varese il centro territoriale di Perugia e il centro di ricerca casaccia di Enea. Come ribadito in tutte le iniziative europee quindi il Clean Energy Package il Green Deal la Renovation Wave il settore degli edifici è uno dei principali comparti su cui bisogna intervenire per poter attuare la transizione ecologica. Il settore è responsabile di circa il 40% dei consumi energetici dei consumi finali di energia e per quanto riguarda le emissioni di gas effetto serra è responsabile del 36%. Non solo ma a livello nazionale il parco immobiliare è stato costruito quello attuale per più del 65% prima del 1976 che è l'anno in cui è uscita la prima normativa nazionale sull'efficienza energetica mentre il 90% è stato costruito prima del 1991 che è quando è uscita un'ulteriore legge nazionale ancora più ambiziosa e più vincolante rispetto ai sistemi costruttivi ai fini del risparmio energetico. Attualmente in Italia il tasso di riqualificazione energetica è dell'1%. La Commissione europea con le sue ultime direttive invece ha calcolato che per ottenere gli ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione del parco immobiliare bisogna arrivare al 3% del tasso di riqualificazione. Come possiamo accelerare il tasso del rinnovo? La Commissione europea dà anche dei suggerimenti in tal senso ovviamente l'istituzione di incentivi di agevolazioni e questo il Governo nazionale e anche alcuni governi locali lo stanno già facendo ma poi suggerisce uno strumento specifico già tarato e sperimentato in alcune realtà europee proprio finalizzato a promuovere la riqualificazione energetica e ad essere incisivo sull'aumento del tasso di riqualificazione. Questo strumento è il One Stop Shop che quindi è quello che noi stiamo chiamando il servizio unico decivat. Quali sono le caratteristiche di questo servizio? Deve essere su scala locale dal momento in cui deve raggiungere tutti i cittadini e tutti i proprietari degli immobili per questo deve essere anche possibilmente un luogo virtuale ma anche un luogo fisico e deve anche promuovere anche la funzione di promuovere la domanda di personale tecnicamente altamente qualificato proprio per garantire che le realizzazioni e gli interventi di riqualificazione energetica diano i risultati aspettati in termini appunto di risparmio energetico conseguito. a questo modello si ispira il servizio unico decivat che città metropolitana di Milano grazie anche al nostro supporto e si sta impegnando a realizzare l'obiettivo è di offrirlo sia agli utenti privati ma anche agli utenti pubblici anch'essi proprietari immobiliari come per esempio tutti i comuni del territorio metropolitano. Grazie Grazie